Senti, ti vedi ministro fino alla fine della legislatura o no? Questo dipenderà da quello che farò, se sarò capace a farlo, se il mio presidente del Consiglio sarà contenta di quello che è il mio operato. Ma comunque, guarda, se vuoi dare la domanda, rimpasti di governo, non ce n'è. Di rimpasti di governo state non sereni perché poi tranquilli. Rimpasti, si parla di 4 o 5 ministri in binico, tra cui quello che è qui. Ma voi scrivete quello che volete, a noi ci interessano i risultati, il governo è molto coeso, abbiamo un presidente del Consiglio molto capace, ho dei colleghi ministri che stanno facendo molto bene, per cui mi dispiace deludervi, state tranquilli, che rimpasti di governo la meloni non ne fa. Poi, peraltro, non è che lo dico io, l'ha detto il presidente del Consiglio, quant'è? Due giorni fa? Ma appena l'ha detto, tutti hanno detto, quindi conferma che ci sarà un rimpasto. Vabbè, ma voi il vostro lavoro è questo, no? E sennò cosa scrivete tutti i giorni? E lasciamogli scrivere un po' quello che vogliono. L'importante è lavorare, lavorare per l'Italia e fare bene le cose. Poi voi, volete scrivere la nera, bianca e rossa? No, 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 però aspetta. Siamo abituati a leggere tante di quelle balle sui giornali. No, però sai che c'è un'inchiesta e si è parlato molto di dimissioni, questo è. Ma sui giornali forse. Vabbè, se ne è parlato anche in Parlamento, mi risulta. E infatti, però, infatti, sono stata molto contenta che sono l'unico ministro che ha avuto due fiducia. Quindi si va avanti così? Tranquillamente. Io dico alle opposizioni fatevene una ragione, fatevene una ragione. Questo governo durerà cinque anni e faremo quello che abbiamo promesso. Venite a sentire Calenda. Sì, vengono tutti. Forse vieni anche tu, mi hanno detto. Io? No. Che giorno è? A breve. Sarò occupato. 24? No, no, ma io guardo, ho un buon rapporto con Calenda. Se c'è la slide a Pietrasanta, per carità, non vieni, ma se non c'è, non hai altri. Ma io non ce l'ho questo problema. Ma appunto, puoi venire. Io se c'è la slide la saluto e gli parlo pure. Se c'è Calenda lo saluto. Non ce l'ho, non so, noi non siamo così. Ti chiedo una cosa. L'hai capito? Non siamo così. Sì, sì, lo sappiamo. Ascolta, ma Renzi entra in maggioranza o no? Ma ti sembro Renzi? No. Ma che ne so io quello che farei. Si sono trovati al Tuiga, quindi hanno discusso, potrebbe essere il passaggio in maggioranza. Ma c'era anche Renzi quella sera? Non c'era, ma c'erano diciamo tre dei suoi. C'era Boschi, c'era e altri. Ma secondo te chi va al Tuiga, cioè la sera si mette a parlare? Non c'era il Tuiga, ci può essere un allargamento della maggioranza o no? Ma veramente, ma azzurro, mi sembra un altro stasera. Dai, ci può essere un allargamento della maggioranza oppure no? O va bene così? Ma noi siamo messi bene, mi sembra. No. No, abbiamo la maggioranza degli italiani. Per la prima volta, dopo tanti anni, gli italiani hanno deciso loro il governo, non l'hanno deciso nelle segrete stanze, hanno votato, hanno voluto Giorgio Meloni, Presidente del Consiglio, ci hanno dato fiducia e speriamo di fare bene che tra cinque anni ci riconfermano la fiducia. Questo si deve fare in una democrazia, no? Si deve lavorare bene per tornare a avere il consenso. Ma siccome, no, lo chiedo, nel senso che fai politica, osservi la politica, il terzo polo di fatto si è fracassato e quindi Calenda sembra che vada da una parte, Renzi non si capisce da che parte può andare. Qualcuno dice che potrebbe entrare in maggioranza. Ma dove vanno? Cioè, ma sono, non so, ma per me vadano dove vogliono. Noi siamo bene quelli che siamo. Grazie. Grazie. Grazie.